catena cubana della k r k c e co allora la scatolina la scatolina non è niente di speciale anzi per alcuni versi è anche scomoda riuscire ad aprirle difficile è un po di cartone con della carta adesiva attaccata sopra anche in modo approssimativo diciamo la scatolina è da dimenticare sebbene si presenti carina come trauma però è quello che è la catena passiamo alla catena questa che ho preso una catena da 61 centimetri 6 mm andiamo a liberare subito dalla pellicola che serve a proteggerla dai graffi eccola qui direi che la maglia è abbastanza serrata e bella da vedere molto molto luccicante il fermaglio la chiusura diciamo è un po' approssimativa è stata legata di più mi sembra legata all'anello sbagliato anziché legarla all'ultimo non è legata al penultimo o addirittura agli ultimi due non riesco ancora bene la trama è regolare non si notano i punti di chiusura del dei vari elementi all'altro capo a chiudere c'è sempre un anello della maglia e anche da quest'altro lato il fermaglio è sagomato inserendo l'ultimo va decisamente meglio secondo me qui c'è stato un errore di montaggio cioè il fatto che anziché passare attraverso l'ultimo anello ne passi attraverso due è un errore che è stato commesso al montaggio infatti c'è questo questo sarebbe l'ultimo anello anziché essere legato questo è stato legato quello precedente è stato legato